che vorrei dirvi perdono perdono e scusa perché noi non sempre non sempre diamo un buon esempio noi parlo della fauna clericale noi non sempre diamo buon esempio ma ci sono nella vita sbagli che facciamo noi chierici peccati ingiustizi o dalle volte trattiamo male la gente un po' neurotici ingiustizie perdono per tutti questi esempi non buoni noi dobbiamo chiedere perdono anche io chiedo perdono perché perché dalle volte mi si volano i passeri gli uccelli e se ne vanno e l'uccelli che è l'uccelli che